Benvenuti signore e signore di un altro bellissimo appuntamento con Bug di FIFA 14 Stiamo giocando con questa visuale, non perché stiamo giocando a modalità diventa un mito né perché stiamo giocando per scelta nostra ma semplicemente perché il gioco non ci fa giocare con altre visuali Andiamo avanti con le immagini, vediamo questo bug Abbiamo, mettiamo qualsiasi visuale, campo largo E lui continua a farci giocare così Incredibile Cambia visuale quella del multigiocatore Vediamo cosa succede Nulla ovviamente perché non stiamo giocando a multigiocatore Ma anche cambiando quella del giocatore singolo non cambia assolutamente nulla Riproviamo Scelatore singolo, mettiamo co-op E non succede, assolutamente niente Mettiamo tribuna stampa, vai E non succede, assolutamente niente